7 gadget tecnologici, economici, ed utili. Schiavo della tecnologia? Oppure, amante delle comodità che l'innovazione ci offre, per migliorare la nostra vita? Se anche tu, ami essere aggiornato sulle ultime novità tecnologiche, ma al tempo stesso non vuoi svuotarti il portafoglio, ecco a te, 7 accessori tecnologici, economici ed utili al tempo stesso, che puoi trovare su Amazon. Trovi i link, ai prodotti recensiti, nella descrizione del video. 1. Guanti per touch screen. Sono morbidi, caldi, e funzionano sorprendentemente bene. Il regalo perfetto, per chi non riesce a tenere le mani lontane dal proprio telefono, o tablet, anche se si trova a Polo Nord. Progettati specificamente per l'utilizzo con smartphone e tablet, sono dotati di fibre conduttive nella punta delle dita, per far sì, che le funzionalità touch screen, non vengano rallentate o bloccate. 2. Lampada LED per smartphone. Ossessionato dai selfie? Questo accessorio LED, si accerterà che tutte le foto risultino ben illuminate. Sostituisci la luce artificiale del flash del tuo smartphone, con il bagliore, morbido e naturale, di una lampada per selfie. Ottieni una luce diffusa che elimina le ombre, bilancia il tono della pelle, illumina gli occhi, e migliora la bellezza naturale. 3. Altoparlanti Bluetooth impermeabili. Piccoli, comodi, resistenti, e funzionano senza cavi. Il regalo ideale per chi ascolta la musica direttamente dallo smartphone, come valida alternativa agli scomodi auricolari. Essendo resistenti all'acqua, possono essere portati praticamente dappertutto, per condividere le proprie musica con chi vogliamo. Ne esistono tantissimi modelli, per tutti i gusti, a partire da soli 10 euro. 4. Roku Streaming Stick. Un telecomando, che trasforma il tuo cellulare, in una smart tv. Il regalo ideale per gli appassionati. Una selezione di oltre 500 canali in streaming, dal tuo cellulare, alla tv, e a tutti i dispositivi compatibili. Contiene una selezione di applicazioni precaricate, compreso YouTube e Netflix, e tantissimi programmi, suddivisi in generi e categorie. Il tutto, ovviamente, in qualità HD. 5. Kit per fare la birra in casa. Se amate il gusto della birra, cosa c'è di meglio di, un vero e proprio kit, per farsi la birra in casa? Ne sono presenti diversi, in mille varianti e diverse fasce di prezzo, a partire da 37 euro. Un regalo simpatico e originale, dedicato ovviamente, solo agli estimatori della bevanda. 6. Fascia per smartphone. Quante volte, non sappiamo dove mettere il nostro smartphone perché abbiamo le mani occupate. Con una fascia porta smartphone, potrai indossare il tuo gioiello tecnologico, anche quando fai sport, o semplicemente, sei impegnato in qualche attività, ma hai bisogno di tenere il telefono a portata di dito. Ne esistono praticamente per ogni modello di smartphone, e ci sono anche i bracciali porta smartphone universali. A partire da meno di 10 euro. 7. Caricabatterie, a energia solare. Chiunque di noi si sarà trovato, almeno una volta, con il cellulare scarico, magari proprio quando ne aveva più bisogno. Per ovviare a questo problema, esistono questi accessori, denominati, power bank. Non sono altro che batterie esterne, con capacità notevolmente superiore a quella installata nel nostro dispositivo. Ma la cosa interessante, è che esistono anche in versione a energia solare, questo significa che non necessitano di alimentazione esterna, ma si ricaricano, semplicemente esponendoli al sole, o ad una fonte luminosa. Ne esistono tantissime versioni, a partire da meno di 20 euro. . Bonus, buono regalo Amazon. Hai necessità di fare un regalo? Ma sei indeciso sulla scelta? Se sei a corto di idee, puoi prendere in considerazione di fare scegliere al ricevente la tipologia di regalo, basta solo decidere quanto vuoi spendere, ed acquistare un buono regalo Amazon. Chi riceve questo buono, ha a disposizione un credito prepagato, da spendere come gli pare all'interno del portale. Basta scegliere il valore del buono, acquistarlo, e regalarlo a chi ci pare. . Se il video ti è piaciuto, metti mi piace, iscriviti al canale, e clicca la campanella, per ricevere gli aggiornamenti. . 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